Si riparte stasera da appena 48 ore di distanza per la seconda partita della serie tra la gestistica Allianz Sansevero e Palestrina. Dalla vittoria in gara 1 dei gialloneri al termine di una partita tirata, combattuta, molto dura e perché no spigolosa contro un Palestrina forte, solido e caparbio che di sicuro stasera le proverà tutte per impattare, giocarsi poi l'accesso alle Final Four di Montecatini dinanzi al suo pubblico nelle due gare successive che si disputeranno sul parquet laziale. I pernestini però dovranno fare i conti con la squadra del presidente Ciavarella che farà leva sulla propria indubbia forza e strinsecata in toto nella seconda parte di gara 1 e sul fattore campo sullo straordinario palla Castellana, vero sesto uomo a disposizione di coach Salvemini. Palla 2 alle 21 con la direzione di Balducci di Valvasone, Arsene e Roca di Avellino. In contemporanea si disputeranno anche le altre tre finali, Omegna-Piacenza, girone A1-0 Piacenza, Cento-Firenze, girone B1-0-100 e Barcellona-Cassino, girone D1-0 Cassino.